La letteratura è molto spesso religiosa e trae da Dio un'ispirazione non confessionale. Quindi dalla religione si determinano non esortazioni a una condotta di vita che sia legata ai principi religiosi, ma si determinano invenzioni di nature umane, come sono quelle di Renzo e Lucia nei Promessi Sposi, che determinano dalla religione una creazione artistica che è una seconda identità del volto di Dio. Se Dio dovesse esistere, cosa di cui non siamo certi, certamente la prima prova della sua esistenza è l'arte. Se esiste Michelangelo che lo ha rappresentato, Dio deve esistere. Se esiste Dante che ha raccontato le vicende nel Paradiso e anche dell'Inferno, degli uomini che ha incrociato, probabilmente Dio esiste. Quindi l'arte è la forma di conoscenza più vicina a Dio. Allora fare un festival di letteratura religiosa, come potrebbe anche essere di arte religiosa, io penso da sempre alla televisione, che una televisione pedagogica dovrebbe avere lo spazio per fare una rubrica non confessionale e non vaticana dal titolo Storia dell'arte cristiana. Perché Storia dell'arte cristiana vuol dire Storia della nostra civiltà, storia del... non esiste... immagino difficile che un islamico debba accampare per salvarsi da una religione che non è la sua, l'idea di non studiare in una scuola italiana Giotto, Michelangelo, Beato Angelico, Caravaggio, Manzoni... di non venire che può fare a meno di venire a scuola. E allora perché li studierà? Perché non si tratta di testi religiosi, ma di testi di letteratura e di arte religiosa che appartengono anche a lui. Cioè un buddista, come il nostro amico, o un islamico, possono capire tutto e sentire tutto di Michelangelo, anche se quelle immagini nascono da una diversa religione. Anzi, nascono da una religione che ha assunto una funzione, diciamo, di supplenza. Perché? Perché questo è un dato interno e alla letteratura religiosa cristiana e all'arte cristiana. Come voi sapete, la religione islamica e quella ebraica non rappresentano Dio. E hanno ragione. Perché il nostro primo comandamento, nei comandamenti cristiani, dice non nominare il nome di Dio in vano. Quindi descriverlo, illustrarlo, raccontarlo, sarebbe comunque parlarne in vano. Ma in vano perché? Perché è chiaro che uno di Dio può dire molte cose buone. Per grazia ricevuta le divinità e gli dèi aiutano gli uomini quando si voglia credere a questo rapporto che io non credo vi sia fra l'alto e il basso, fra Dio e l'uomo. Ma in ogni caso il rapporto fra Dio e l'uomo c'è. Ma l'uomo è talmente inferiore a Dio che non è in grado di comprenderlo. E quindi le religioni monoteistiche islamica ed ebraica imperiscono la rappresentazione di Dio perché la nostra dimensione è insufficiente a comprenderlo. Da cui deriva la posizione di un ateo ma fortemente mistico come Wittgenstein di ciò di cui non sappiamo niente e non possiamo parlare. Perché dice questo Wittgenstein? Perché io non potrei dire niente di Dio, infatti io mi astengo dal dirlo perché non sarei in grado di capire come è fatto Dio essendo molto più piccolo di lui. E quindi la nostra inadeguatezza è la ragione della ineffabilità e della mancanza di rappresentazione di Dio. Per esempio Dio ha sesso? Direi di no. Ma se ha sesso, ha sesso sia maschile che femminile. Allora faccio questa riflessione perché voi sapete che la religione cristiana inibisce la funzione sacerdotale alle donne. E su questo io mi sono trovato spesso con Vescovi a parlare che mentre hanno aperto uno spiraglio all'ipotesi di un ritorno al matrimonio fra preti e donne, non fra preti e preti, ancora non ci sono arrivati ma arriveranno anche a questo, hanno rigorosamente escluso la possibilità che le donne possano diventare sacerdoti. Perché? È chiaro che una donna è uguale a un uomo. Non tanto perché è uguale ma perché è uguale. È uguale sul piano psichico, spirituale, dell'anima, dell'intelligenza, della formazione, della cultura, donne più grandi di uomini ce ne sono tante, Emily Dickinson è come Leopardi, forse meglio di Leopardi. Allora perché non può aspettare le funzioni sacerdotali? Perché nella religione cristiana ci sono dei riti simbolici. Quello che investe la funzione sacerdotale è l'ultima cena, quella rappresentata a Milano mirabilmente da Leonardo. Cosa avviene nell'ultima cena? Avviene che il Cristo, che è Dio, attribuisce attraverso la comunione a dodici apostoli, dodici, la funzione di essergli in qualche modo successori. Sono tutti maschi, le donne in cucina. Chi come Dan Brown ha voluto vedere nella figura femminile la Maddalena ha fatto un'operazione assolutamente fasulla, a cui lui stesso non credeva, perché la figura che sta alla destra di Cristo è evidentemente, per iconografia conclamata, San Giovanni Evangelista, il quale in moltissime rappresentazioni precedenti e successive è il più giovane, il più amato, quasi di un amore omosessuale, se potessimo intenderlo in questo modo, così lo intendono molti siti gay che usano la figura del San Sebastiano e quella del San Giovanni Evangelista vicino al Cristo per indicare questo amore, diciamo, di uguali, di uguale sesso. E però, in molte rappresentazioni, perfino in quella di Dürer, il San Giovanni sta quasi in braccio, è un piccolo giovane, quasi adolescente, che gli sta addosso, lo ama proprio fisicamente, è contiguo a lui. Leonardo, che era omosessuale, evidentemente aveva un tale rispetto di Dio che non voleva neppure immaginare che l'amatissimo, così pieno di passione, San Giovanni, stesse vicino al Cristo. E cosa fa? In uno dei blocchi a tre con cui divide i dodici apostoli, mostra San Pietro che fa come per dire all'orecchio qualcosa a San Giovanni. E questo costringe San Giovanni a spostarsi e non stare in braccio al Cristo, tanto da lasciare il Cristo come deve essere in quel momento fatale, solo, con una finestra dietro, Cristo è solo. E' la prima volta che Cristo ha proprio dietro le spalle il vuoto. L'apostolo che gli sta a sinistra e lontano e il San Giovanni che gli starebbe addosso, come in tutte le rappresentazioni precedenti, gli sta discosto creando una V. E' un'idea formidabile, quella di distrarre l'amante, distrarre questa offerta amorosa, così esplicita, di San Giovanni, per identificare la natura di profonda solitudine di Dio. Dio è solo. Ma Dio è solo poi? Non sappiamo se Dio è solo. E Dio è uno solo o sono tanti? Non possiamo dire niente di Dio, appunto, non conoscendolo. Però perché allora la religione cristiana contravviede la regola della non rappresentazione? Perché il dato peculiare e straordinario della nostra religione è che l'intuizione teologica, possiamo veramente dire teologica, ha voluto che il nostro Dio fosse uomo, e fosse prima uomo che Dio, e cioè Cristo. Nessun dubbio che Cristo è una figura profetica, è una figura divina, anche per quelli che non credono alla sua natura divina, perché l'azione che lui ha fatto è un'azione per l'appunto rivoluzionaria, che ha mutato il mondo, trasformando gli uomini da violenti l'un verso l'altro, con la formula conclamata homo homini lupus, non in homo homini agnus, eppure l'agnello di Dio esiste, e neppure in homo homini amicus, ma in homo homini Deus. Come può diventare l'uomo che era lupus Deus? Perché il modello più alto di uomo è quel Cristo che ci vuole indurre a diventare come lui, cioè Deus. È una forza eversiva straordinaria. La natura divina di Cristo è tale perché lui diventa uomo, è ultimo degli uomini, è portato al sacrificio che tutti conosciamo, delle rappresentazioni infinite della passione, fino al dubbio che Dio lo abbia abbandonato. Allora, se quel Dio diventa uomo e la sua natura divina è tanto più grande perché egli ha accettato di ridursi alla dimensione dell'uomo, questo apre la strada a quella che è la gloria dell'immagine di Dio. Cioè io non posso parlare di Dio perché per me è inconoscibile, perché Dio è troppo grande per la mia capacità di comprensione, perché non lo posso comprendere. Lui è grande, io sono piccolo, lui è infinito, io sono finito, lui non ha limite, io ho limite, lui non ha tempo, io ho tempo, lui non ha spazio, io ho spazio. Però posso parlare di Cristo. Ecco la chiave. Quell'elemento straordinario ed eversivo della religione cristiana apre la strada alla più grande rappresentazione della storia di Dio uomo che nessuna religione abbia mai raccontato, neanche le religioni pagane che poi giocano sempre sul concetto di divinità che sono come uomini, superuomini, Apollo, Venere, Diana, c'è l'elemento in cui in fondo quelle divinità hanno qualcosa di... sono tipi umani, sono tipologie umane. E questo rende così potente la rappresentazione dell'arte greca, che però è una religione a cui conviene la formula di Stanislav Lech che dice con una frase assolutamente cinica tutti gli dèi furono immortali. Che è un'immagine formidabile perché è una contrazione del tempo. Se sono immortali non può essere annesso a loro il passato remoto. In realtà nessuno crede più in Apollo, nessuno crede più in Venere. Finché erano dèi erano immortali e poi sono completamente morti. Quindi furono immortali. Non so quando morirà dall'isola cristiana, forse non morirà in tempi stretti, ma per intanto l'immortalità è la chiave di Dio e la mortalità è la chiave di Cristo. La sintesi fra mortalità e immortalità ci lascia la rappresentazione di tutta la vita mortale, cioè dalla nascita fino a 33 anni, con una pausa centrale, di Cristo, che è quello che noi vediamo raccontato nei libri, nella letteratura e nell'arte, con dovizia straordinaria al punto che possiamo dire che nessuna religione, nessun tipo di religione, anche quelle più propense a avere dei come le religioni indiane che si possono rappresentare, o anche la religione egizia e anche quella pagana, ma comunque nonostante la loro durata con un contingente più limitato di produzione, nessuna religione ha espresso tanta bellezza come la religione cristiana. E bellezza vuol dire creazione, vuol dire arte, vuol dire letteratura, vuol dire musica. Allora, se uno pensa ai prodigi musicali da Bach a Mozart e quant'altro ancora, da Monteverdi a Frescobaldi, qual è il prodigio musicale prodotto dalla religione islamica o da quella buddista? In che modo la musica attesta un pensiero religioso espresso in note musicali? E poi di lì, oltre alla musica, la letteratura, la poesia, la poesia dantesca e la poesia manzoniana, per stare in Italia, ma molte poesie, la poesia di John Donne, e l'arte. Quante immagini sono state espresse riferendosi alla vita, agli episodi della vita, oltre ad altri che comunque riguardano profetti e figure che sono uomini, quindi li puoi rappresentare. La religione ti fa allargare lo spettro dell'iconografia perché continui a rappresentare non il volto di Dio, non l'immagine di Dio, non la storia di Dio, non il pensiero di Dio, ma di Abba Cooch, di Giuditta e di quanti altri, che sono quindi un materiale formidabile. Ma al centro di questo patrimonio formidabile di creazione c'è la storia di Cristo. Una storia che ha prodotto migliaia di adorazioni dei magi, migliaia di inattività, migliaia di circoncisioni, migliaia di crocefissioni, una quantità estremita, e tutte meravigliose, e nei più grandi artisti, l'una diversa dall'altra, a ispirare e a indicare la capacità che ognuno degli interpreti, così come degli scrittori e dei poeti, ha dato dell'immagine di Cristo. Per cui l'iconografia è apparentemente immobile, lo è per circa milleanti nell'arte bizantina, poi da Giotto in avanti diventa un'iconografia che è libertà sfrenata di invenzione, tanto che se uno prende una rappresentazione di Romanino e poi un'altra di Giotto e poi un'altra di Tiepolo, lo stesso soggetto viene sfigurato, sfigurato nel senso di rappresentato in figure totalmente diverse a seconda della ispirazione, quindi della creatività di ogni artista. Quindi l'idea di un festival della letteratura religiosa è l'idea di poter parlare di Dio attraverso quello che ne hanno detto non solo gli uomini, e quindi i loro profetti e i testimoni delle religioni, quindi i sacerdoti, e quindi gli scrittori, i teologi, che è altra materia, ma quello che hanno detto gli scrittori, cioè quelli che si sono preoccupati della creatività. Dio ispira, quando uno vede cosa ispira a uno spirito sublime come Lorenzo Lotto, Dio, Cristo, avere dell'immagine non ci vuol credere che un uomo sia così sensibile e delicato, così maschile e femminile come Lotto, tenendo in sé le due opzioni, da rappresentare il soggetto che tanti altri hanno rappresentato con una dolcezza e una delicatezza superiori quasi a ogni altro pittore. Quando poi arriviamo a Caravaggio vediamo una specie di secondo Cristo, cioè una rivoluzione formale che la pittura di Caravaggio fa con la potenza che doveva avere l'incontro con Cristo. Quelli che venivano a Roma a vedere Caravaggio vedevano un personaggio che aveva visto il mondo in un modo totalmente eversivo rispetto ai pittori precedenti, esattamente come quelli che hanno incontrato Cristo. C'è qualcosa di, come dire, di natura divina in alcuni artisti. Ci sono delle personalità che hanno in sé una capacità così formidabile di contagio, di contagio di pensieri e di passioni che diventa quasi una religione. Quello che è capitato a Roma fra 1602-1635 è veramente una passione formidabile di pittori europei che vanno a vedere come si può fare la rivoluzione con la pittura attraverso la lezione di Caravaggio. Quindi in quella lezione c'è qualcosa che più ancora che arte è proprio un modo di vivere, un modo di intendere il mondo, un modo di guardare il mondo con occhi diversi. E questo è il portato della letteratura, il portato dell'arte, il portato della musica alla religione. E quello che la religione consente alla musica, alla letteratura, all'arte. Cioè è un rapporto che moltiplica gli elementi. Ecco perché credo che sia intelligente aver scelto questo tema e sarebbe intelligente anche, io non so niente, che non ho visto programmi, non so assolutamente niente, invitare alcuni scrittori che hanno ancora un rapporto con Dio. È chiaro che a Milano il gioco era facile finché era vivo Testori. Testori sembrava parlare in nome e per conto di Dio attraverso Don Giussani, ma certamente la sua scrittura era una scrittura non solo mistica, ma come ispirata, come fosse un profeta. in un certo senso questo valeva anche per Pasolini, in modo però più moderno, forse anche se è morto prima di Testori. Ma ci sono altri scrittori, penso a Luca Doninelli, penso a Davide Rondoni, che hanno continuato il filone testoriano e quindi milanese, che poi è un filone borromaico, mettendo un empito spirituale e direi di fede, di credenza nella loro letteratura, quindi una letteratura che senza Dio non sarebbe. e poi anche scrittori atei, perché invitare uno scrittore ateo vuol dire invitare qualcuno che non è uno scrittore agnostico, come molti sono, gran parte degli scrittori sono agnostici, cioè come se Dio non facesse parte del loro orizzonte, ma se uno invece è ateo vuol dire che crede in Dio, cioè crede nella sua assenza, crede nell'assenza di qualcuno vuol dire presumere nella presenza. Quindi immaginare che questo, se io fossi nel comitato che organizza, mettere insieme, accozzare, scrittori religiosi e scrittori atei scoprendo che gli atei sono più religiosi dei religiosi spesso, perché nell'ateo c'è una pienezza del Dio assente che li rende nostalgici di quello che non c'è per loro e nell'altro invece c'è una rassicurazione di un Dio che presumono esserci e che magari non c'è. Per cui, diciamo, io mi ricordo che facemmo con un gruppo delle stelline un incontro su Pascoli attraverso la lettura di alcuni versi scelti poi liberamente da parte di un vescovo che era Kamesaska, non era forse ancora vescovo, oggi è vescovo di Reggio, Reggio Emilia, e Dio. Naturalmente la teoria di quelli che avevano organizzato era che lui parlasse per la religione e io parlassi per non so quale altro libero pensiero. In realtà fu più religiosa la mia interpretazione di Pascoli di quella di Kamesaska, perché io ero più libero di sentire Dio in Pascoli di quanto lui non fosse piegato dogmaticamente, perché sia molto intelligente, intelligente a premettere che Dio c'è. Ora, se uno premette che Dio c'è è probabile che Dio non ci sia. Io per esempio sono fermamente convinto che Papa Francesco sia ateo. Ne ho una profonda convinzione, cioè non potrebbe compiere gli atti che compie se non fosse ateo. Naturalmente ateo non vuol dire che Dio non esiste, vuol dire che parte dal presupposto che non esiste il Dio degli altri, cioè il Dio di Benedetto XVI, il Dio di... cioè è un Dio diverso il suo. Ora bisogna mettersi d'accordo. E in questo ha riconciliato la Chiesa che era arrivata al punto più basso di popolarità proprio perché l'ha negata nelle sue strutture profonde. Occorreva un coraggio titanico e rivoluzionario di rifondarla, ma non è per questo necessario che uno creda in Dio, ma occorre che abbia un'idea formidabile del marketing divino. Cioè il marketing divino vuol dire l'opposto di Bertone. E però Bertone c'era, tant'è che io ho nel mio telefonino, mi piacerebbe farvelo vedere se riesco a recuperarlo, un'immagine di una santificazione e beatificazione in America Latina fatta da Bertone quando Francesco era vescovo. Ora si vede una specie di trono con un monumento eretto scolpito in marmo, oro, bronzo, potentissimo con degli occhiali da super boss che è Bertone. e piccolo piccolo in basso vestito di bianco come un chierichetto Papa Francesco. Era il 2008, non era tanti anni fa. Ma lì si vede proprio questa chiesa che cresce su un potere insolente e anche se questo poveretto che io conosco non sarà così cattivo e proprio la fotografia lo rende una specie di monumento del male, un monumento alla crudeltà umana e quell'altro piccolo piccolo che lo guarda così di traverso sarà poi diventato Papa. Ora queste due visioni in quel momento coincidevano perché quello comunque era gerarchicamente subordinato al cardinal Albertone. Appena è arrivato là non è che abbia detto te la faccio vedere io ma gliela ha fatta vedere gliela ha fatta vedere senza fargliela vedere nel senso che non era vendetta era natura era un diverso modo di intendere la religione ma meglio ancora la parola di Dio ma siccome la parola di Dio non ce la dà Dio altro che a Cristo quando gliela ha dette e semmai gliela ha dette chi parla in nome di Dio compie un arbitrio e quell'arbitrio fa sì che parli in realtà in nome di se stesso presumendo il Dio che forse non c'è quindi è un meccanismo molto complesso per cui questa vicinanza di Francesco a Dio non presuppone che Dio esista presuppone che la sua interpretazione di Dio sia più credibile più condivisibile più umile di quella di Bertone il quale crede di credere nel Dio di Francesco ma è certo che il Dio dei due non è lo stesso insomma ecco questo per dirvi alcune riflessioni di ordine generale sulla denominazione che è l'unica cosa che io so di questo convegno mi rassicura vedere il mio amico di Fidenza che è Fausto sacerdote di una religione umana e avrei anche immaginato non tanto per la letteratura quanto per il dialogo l'avevo pensato in una delle tante fasi della mia azione politica nel senso più alto della parola quando ho lavorato per il sindaco di Varallo e ho immaginato che in quel luogo sublime della religione cristiana molto meno conosciuto di quanto non meriterebbe sarebbe stato ideale fare un incontro tra buddisti e cristiani proprio a Varallo nelle diverse cappelle di questo sacro monte e invece il destino ha voluto che le volte che io sono andato sul piano istituzionale a Varallo abbia incontrato il cardinal Bertone vedi com'è abbiamo fatto un discorso insieme non ho mai incontrato nessun buddista non Bertone sì non so per quale ragione poi a me sembrava anche abbastanza simpatico era un po' squadrato effettivamente come questa immagine che non trovo ma era effettivamente una una occasione nella quale lui è andato per ragioni pastorali però immaginare che luoghi come Urbino luoghi come Varallo siano predisposti alla meditazione religiosa letteraria religiosa certo questo posto è bellissimo non si può negare ma se c'è una città in cui nonostante Federico Borromeo e Carlo Borromeo la religione sembra in qualche modo remota è Milano perché c'è poca concentrazione insomma una città piccola invece fa sentire come una ecumene come un'ecclesia come un modo in cui tutti stanno intorno qui lo sappiamo noi ma se voi domandate uno che passa se qui si parla di religione non lo sa nessuno perché le città grandi diventano delle città in cui si vive per mondi separati si vive è una cosa sì certamente si fa una cosa con molto danaro e molta comunicazione può diventare un'occasione per tutti ma se lo fai nei limiti umani diventa soltanto un dialogo all'interno di una piccola comunità come quella che si è mossa intorno a questo tema quindi io non so quanto andrà avanti quali siano gli incontri cosa sia capitato fin qui però devo dire che delle e le ho anche detto delle altre concorrenze delle altre occasioni di festival legate alla religione l'idea pervicace di tenersi al tema di una letteratura individua un percorso doppio potenziato cioè a dire le parole che voi sentirete non saranno parole di preti sacerdoti teologi atei giorelli o di freddi ma che sono tutte opzioni sul tema centrale che è dio ma invece il tema centrale che è dio passa in secondo piano dio è dato per scontato che ci sia o che non ci sia nell'impossibilità di dimostrarlo nell'impossibilità di parlarne e nella decisione bitchestagnana che noi stiamo qui in nome di qualcuno che vogliamo credere che esista ma che è indimostrabile però non è indimostrabile il cristo e questo avvalora tutta la letteratura e l'arte che ho detto soprattutto non è indimostrabile quello che in nome di quel dio si scrive per cui quello esiste quando noi vediamo un parto letterario quando leggiamo il canto di piccarda sublime nel paradiso di Dante dio esiste la letteratura lo fa vivere il nostro dio quello che poi io frequento di più perché naturalmente la curiosità che noi possiamo avere per le altre espressioni religiose soprattutto per quella buddista evidentemente ci mette davanti a una questione anche antropologica cioè io dissi una volta incontrando il Dalai Lama la prima volta che vede in Italia e lui alla fine l'ha condiviso che l'unico modo in questo caso che avremmo un eretico per essere buddisti in Italia è essere cattolici cattolici credenti c'è un vero cattolico credente nella sua adesione ai valori culturali di casa sua di non so di Valtellino uno che è nato in Valtellina o uno che è nato a Venegono non può essere buddista perché quella roba lì quel mondo quel dialetto quella lingua ora tanto più quei valori conserva tanto più interpreta i principi buddisti per cui nel tradurre fidenza in fidenci e nell'assumere le parvenze di una funzione diversa da quella cattolica diciamo il mio amico Fausto ha incarnato una eresia buddista cioè un'eresia che ha la mimesi del buddismo come se fossimo in Oriente in Tibet ma in realtà siamo a Fidenza allora il pretino che sta nella sua parrocchia facendo esercizio di catechismo con i suoi allievi è più buddista di lui perché non è esotico ora questo problema ma per lui perché è esotico e questi sono problemi a cui potrà rispondere lui certamente però pone un problema di come dire contraddizione rispetto all'elemento fondamentale del humus o dell'habitat in cui tu ti sei formato ci sono ci sono dei dialetti delle declinazioni delle forme del parlare che fanno capire che uno è di quel luogo e di quel luogo vuol dire che allora è anche quello che gli hanno insegnato e se traumaticamente improvvisamente cambia mondo dobbiamo immaginare che il panorama che è intorno cambi e quindi sia un tempio tibetano sia e quindi questo non essendo si stabilisce una specie di illusione ottica ecco da questo punto di vista è evidente che la letteratura religiosa il tema prevalente del convegno dà per scontato che Dio esista e quindi non lo pone più come una questione né che tipo di Dio sia né che faccia deve avere né che faccia è quello lì è il Dio cristiano è il Dio della quotidianità è il Dio di testori è il Dio di Francesco di Francesco questo di Francesco quell'altro Francesco è una reincarnazione di Dio Francesco d'Assisi a quel punto il Cantico delle Creature che è un capolavoro sublime di Francesco è ispirato direttamente da Dio è letteratura però e in quanto letteratura cioè in quanto derivazione da un assunto indimostrato quello che ne deriva è dimostrato che c'è quindi l'esistenza di Dio è più forte nei derivati letterari che nella presunzione fideistica e vocazionistica che esista quindi la letteratura è un potentissimo elemento di trasmissione di valori umani di valori individuali di valori spirituali in nome di Dio anche se Dio non c'è e questo è un dato credo importante che rende particolarmente sofisticato questo festival e che naturalmente presuppone nella prima edizione questo è il numero zero come abbiamo detto un invito di molti scrittori italiani e stranieri che si siano in qualche modo interrogati su Dio ma a un certo punto abbiano raccontato delle vite ispirate da Dio e in quel racconto abbiano creato un mondo che ha dei presidi e dei principi per cui Dio c'è non si discute che ci sia ecco su questo io credo che è uscito recentemente un libro pubblicato da Bonpiani che traduce dal francese la storia di un ragazzo di 21 anni omosessuale che racconta nella Francia di provincia le difficoltà che ha avuto e una superstizione che gli si è sbarrata contro per impedirgli di vivere la sua va bene queste cose oggi sono molto di moda però io il libro non l'ho letto ma dalle rifensioni si capisce che c'è un potente contrasto fra un'esigenza di libertà e una superstizione in cui si è in qualche modo incarnata la religione con dei principi assolutamente dogmatici di un mondo chiuso che però comunque la religione ha creato io che sono stato in collegio non c'era niente di quel collegio che mi sembrasse avere a che fare con Dio però questi sacerdoti erano convinti di lavorare in nome di Dio quindi rompevano i coglioni in tutti i modi ma però e che potevo dire secondo me Dio non c'era mi imperivano di leggere qualunque cosa imperivano tutto però questo era quello che Dio diceva loro ed erano in perfetta buona fede non c'è dubbio non erano atei magari lo fossero stati invece no perché nulla è meglio di un uomo in mala fede perché un uomo in mala fede è corregibile un uomo in buona fede è impossibile da correggere è terribile un uomo che è in buona fede delira quello ci fai con un cretino in buona fede non puoi fare niente che è una convintista un mala fede allora da questo punto di vista è evidente che anche nella mia breve esperienza io sono relativamente giovane relativamente vecchio ho visto due mondi ho visto un mondo in cui c'era questa religione oscura che ho vissuto come un conflitto e poi ho scoperto una religione umana che è appunto quella che oggi viene fuori dalla parola di Francesco e che pure è dentro lo stesso sistema di valori sia quella repressiva quella potentemente repressiva oppure quella che fa scrivere delle patele stagini meravigliose altra letteratura alle monica del 600 che sono innamorati di Cristo e che si flagellano vivono la tortura fisica come omaggio a Dio ma perché? eppure in quel momento c'è in loro una convinzione profonda io per esempio ho fatto uscire dal convento una suora attraverso un paralogismo sono stato in un convento di Agrigento e le suore mi hanno accolto come fanno spesso tante suore io ho frequentato in tanti luoghi a Tangere ho visto delle suore meravigliose che non volevano che neanche nel momento della maggiore sofferenza si parlasse di eutanasia o di limitare la vita di uno costretto per sempre a stare in un letto di dolore perché finché c'era un barlume di vita loro ritenevano che un uomo che era chiuso in un letto per la sua malattia dovesse continuare a vivere ed è la ragione per la quale io sono stato contrario pur essendo laico alla soluzione della vicenda di Eluana credo che la posizione che hanno scelto fosse più dogmatica di quella che vi descriverò fra un attimo prima di parlarvi della suora in convento allora ci sono in conflitto una visione religiosa e una legata alla scienza la scienza si interrompe ecco perché esiste l'URD non è in grado di ottenere un risultato occorre un miracolo il miracolo va oltre la scienza esiste poi il miracolo è il caso è un'alterazione della natura dovete intervistare il pittore Valentino Vago milanese 83enne era in punto di morte per un cancro al fegato conclamato nell'arco di qualche mese quel cancro è sparito lui non so neppure se sia religioso però adesso è sanissimo ma il cancro era mortale lui aspettava di morire non hanno spiegato perché quel cancro è certo che se io fossi un prete cattivo ne approfitterei per dire quello è un miracolo non so se lo pensi anche lui però è certo che una cosa che è certa che scientificamente dimostrata che poi invece non c'è più fa pensare a qualcosa di non umano che è fuori della capacità di capire dei nostri strumenti razionali allora esiste il miracolo perché la scienza non può riparare una malattia quindi era giusto che morisse Luana perché se non si crede al miracolo non c'era dubbio che lei non potesse uscire da quello stato in cui era allora in nome della scienza tu annulli ogni possibilità di un miracolo extra scientifico quindi è chiaro che si è escluso che il miracolo esista e questo potrebbe essere quindi per quelli che credono in Dio la possibilità di un miracolo c'è sempre ma si stabilisce che non avverrà però perché io non avrei fatto morire o uccidere lì in questo caso Berlusconi fece un errore di buona volontà perché chiese di bloccare il decreto che stabiliva di poter far morire Luana anzi fece un decreto per necessità e urgenza intendendola sul piano sostanziale cioè perché non muore occorre continuare a darle i medicinali che le vengono date perché non muoia in realtà Napolitano che ha firmato invece la morte di Luana non ha ravvisato i requisiti di necessità e di urgenza perché non sono relativi alla sostanza cioè alla vita della persona ma alla forma della legge e siccome non c'era stata mai nessuna necessità di questa legge nel corso di vent'anni non era affatto necessaria e urgente quindi l'interpretazione formale cioè quella giusta corretta e prevalente di Napolitano ha portato a far morire questa ragazza l'interpretazione come sempre un po' spontaneista di Berlusconi intendeva urgenza come dire se lo interveniamo subito muore no l'urgenza di cui si parla è l'urgenza legislativa ed era palese che non si fosse urgenza per una legge ferma da vent'anni quindi Napolitano l'uno ha interpretato in senso formale quell'altro per istinto in senso contenutistico ha perso quello dell'istinto ma se fosse passato quel decreto avrebbero dovuto continuare a nutrire e sarebbe ancora viva Luana naturalmente non cambierebbe nulla avrebbe ancora il padre che va in giro dicendo che vuole che finalmente la figlia finisca di soffrire però per chi crede a Dio la prospettiva del miracolo c'è sempre però quello facciamo finta che non esista ma chi crede alla scienza come puoi immaginare che nell'arco di dieci anni non nasca un medicinale che può curare quella donna proprio il credere alla potenza della scienza ci dice che quello che dieci anni fa non c'era oggi ci sia che alcune cure del cancro oggi ci sono e non sono più mali inguaribili l'epatite C che era una malattia inguaribile ha trovato il suo medicinale allora io dentro di me ho pensato non in nome del miracolo a cui non voglio credere e che non è consentito ma in nome della scienza tenere in vita Eluana vorrebbe dire prospettare che in dieci anni si possa trovare quel medicinale che la risveglia questo non l'ha pensato nessuno e quindi lei è morta ora questa considerazione la faccio per dire che su questa materia ovviamente si può discutere all'infinito ma anche con i paradossi tipici della mente sofistica puoi usare un argomento che sembra di quelli che credono a dar forza a quelli che non credono è la prova che alcuni miracoli della scienza ci sono stati ci sono non so la poliomelite la qualità di cose che sembravano inguaribili e sono guaribili quindi basta aspettare tu la tieni in vita non perché deve intervenire Dio ma perché nel frattempo dei chimici o dei farmacisti lavorano a un medicinale che potrà ottenere una non dico guarigione ma un risveglio o d'altro ecco allora questa cosa che nessuno ha valutato mi ha posto su una posizione apparentemente oscurantista cioè di essere favorevole a non farla morire mentre quella invece illuminista era quella di chi l'ha fatta morire attraverso il paradosso di due autorità dello Stato che hanno interpretato necessità e urgenza in termini molto diversi uno in senso come dire umano ma le leggi non riguardano questioni umane riguardano questioni formali e l'altro che è napolitano molto più intelligente e preparato in senso rigidamente formale se no non c'è nessuna necessità di questo decreto nessuna urgenza perché è una cosa che stanno discutendo da vent'anni e quindi la bocciano fatta questa considerazione dicevo appunto della percezione di Dio e anche dei paradossi dei rapporti che si possono avere con quelli che fanno un atto di fede compiuta quindi andai in questo convento ad Agrigento vidi questa suora molto bella la quale mi preparò un piatto una torta di pistacchi molto umana insomma poi parlavo a un certo punto lei mi guarda sempre con tenerezza e mi mostra di avere simpatia per me anche perché coltiva una vocazione di critica d'arte ha fatto dei saggi pubblicati pure sugli stucchi di quella chiesa di Santo Spirito a Agrigento e quindi andiamo a vedere gli stucchi lei mi regala il suo libro e a un certo punto vedendo questa sua capacità di studio e questa sua dico ma come si dà che una donna si chiude in un convento a 30 anni 25 anni quando ne hai tu perché hai deciso di venire qui non era meglio se tu ti muovevi libera dice no perché io ho scelto come sposo Gesù tu senti queste che sembrano le suore del 600 quelle che vivono sacrificandosi in nome di Gesù loro sposo che poi in questo caso sarebbe uno sposo molto poligamo perché ce ne sono tante per cui lui avrebbe un sacco di anche gli uomini ma in questo caso vedere quella donna faceva pensare perché un uomo è difficile che dica io sono qua perché sono sposo di Cristo no non lo può dire lo può dire una donna c'è la suora dice non solo sacerdotessa quindi erede ma sono viceversa sposa di allora io con un cinismo sgarbiano le ho detto sì ma a parte che Dio Dio va bene non sappiamo ma Cristo è esistito ma è risorto tutto quello che vuoi però dico si fa vedere poco le ho detto è più facile incontrare me allora lei mi ha guardato e ha avuto un sospetto visto che dico sì perché sai tu sei la sposa ma dovrebbe arrivare ogni tanto lo sposo diceva lui c'è sempre c'è sempre ma in teoria praticamente ci sono più io e dopo tre mesi l'ho chiamata si era sfuorata era uscito dal convento sono stato diabolico insomma ma non c'era dubbio che lei si era applicata con molta utilità allo studio di questi stucchi aveva fatto quello che appunto è la parte in cui ho sostenuto che la letteratura religiosa esiste a prescindere dall'esistenza di Dio esiste perché è un dato certo che serve a dimostrare quello che è concettualmente incerto perché nessun dubbio che Cristo abbia compiuto la rivoluzione di cui parliamo ma l'ha compiuta in quanto uomo la parte divina è la parte meno interessante di lui tant'è che continuando a guardare l'iconografia di ogni atto di Cristo ci sono testimoni della resurrezione che Caravaggio non ha mai rappresentato non c'è nessun testimone perché lui risorge quando improvvisamente i soldati sono addormentati e torvono tutti basta vedere il bellissimo fresco di piole della Francesca e quando l'angelo arriva sul sepolcro lui è già andato via cioè testimoni della sua natura divina non ce n'è neanche uno abbiamo testimonianze della natura umana del Cristo e anche della natura post-umana quando viene incontrato da Maddalena Noli Metangere e dai Pellegrini Emmaus ma si viene incontrato ma viene incontrato quando è reincarnato uomo protempore vedono il Cristo com'era lo vedete e andrete nei prossimi giorni a vedere la bella mostra che abbiamo impaginato a Brera in senso letterale perché di fronte alla bellissima cena in Emmaus che è la seconda versione di un'altra che sta a Londra in cui si sente che Caravaggio è talmente formidabile nel registrare la propria umanità nelle sue opere che la prima delle versioni è solare festosa con un Cristo giovane la seconda ha un Cristo molto maturo è molto sofferente c'è un clima buio e notturno perché ha appena ucciso un uomo e lo registra nella variazione formale della seconda cena io ne parlo nel libro che ho fatto il punto di vista del cavallo parlando di queste capacità di reinventare i concetti da parte di Caravaggio e mostreremo il più grande pittore realista vivente che è Antonio Lopez Garcia con una cena molto quotidiana di fronte all'ultima cena alla cena in Emmaus di Caravaggio ma quella cena in Emmaus anche in Caravaggio è una cena di uomini che sono in carne ed ossa Cristo compreso si stupiscono che sia ancora vivo ma potrebbe essere stato semplicemente tramortito quando è entrato nel sepolcro e quindi il meccanismo della asseverazione della sua natura divina non ha testimonianze certe quindi la sua resurrezione è un dato interno un dato di fede ma non ha un testimone quindi quello che di Cristo noi riteniamo è la sua rivoluzione umana è per quello che lui è grande è per quello che ha fatto come uomo è la sua umanità che conta la sua divinità è un elemento come dire che potenzia la sua azione ma lui non se ne avvantaggia Cristo compie i suoi miracoli e la sua pochi miracoli e la sua attività come uomo non come un super uomo che si avvantaggia di essere Dio nei rapporti con gli altri tant'è che finisce con la passione che tutti conosciamo nelle sue mille rappresentazioni fra cui quella bellissima di Varallo ecco ho fatto queste considerazioni che mi consentirete sono del tutto estemporane accettando questo invito che è quello che io ho potuto dare alla richiesta di contribuire a questo festival valutando oggi la mia nuova carica istituzionale quindi avendo un potere su cui poggiare come quando ero sessore a Milano che un conforto posso dare agli organizzatori cioè di immaginare che questo stesso tema nella città che è stata di un grande scrittore religioso che era nato a Sestri Levante ma è legge Urbino a sua città come io sono nato a Ferrara che è Carlo Bo si può aprire qui un capitolo su Carlo Bo che è stato un grande critico letterario critico di poeti ma era un grande spirito religioso era un grande cristiano quindi anche nel nome di Carlo Bo che ha codificato nei suoi saggi e nelle sue aperture verso la poesia ermetica e la poesia dei suoi contemporanei cercando nell'afflato religioso in Arturo Onofri in Dino Campana in quanti altri proprio il fatto che quel rettore di università fosse un scrittore cristiano sembrerebbe confermare la vocazione di questo festival di letteratura religiosa che mi sembra un buon auspicio per parlare di cose certe come io ho cercato di dire per principi generali e non di emozioni tutta la teologia è meravigliosa ma poggia è una scienza basata su una cosa indimostrata e questa è la potenza della teologia ma quello sarebbe un altro festival qui invece la letteratura è per se stessa verità rivelata dell'esistenza di Dio attraverso la storia degli uomini che questi scrittori raccontano partendo dal presupposto che è che Dio esista ma che esista o che non esista comunque certamente quei libri quei testi Dante Parini Manzoni lo stesso Leopardi che ha un potenzissimo spirito religioso nonostante che fosse ateo ma era ateo di un Dio a cui riproverava tutto a partire dalla sua stessa nascita e quindi anche lì è la rabbia contro Dio contro il Dio che non c'è che determina la letteratura di Leopardi insomma in nome di questi e di tanti altri principi io credo che si potrà immaginare l'edizione dopo questa con una serie di inviti a scrittori e poeti che ci raccontino la loro esperienza di Dio attraverso la potenza delle parole e della letteratura grazie